Chiara Ferragni e Fedez, la novità che cambia tutto. Nel giro di pochi mesi la famiglia più glam e social d'Italia è passata dall'essere una delle più ammirate, e forse invidiate, del paese ad una sorta di sfaccello imprevedibile. Imprevedibile almeno fino a un attimo prima dell'esplosione del Pandoro Gate. Come tutti sanno i guai non vengono mai da soli e nel volgere di un battito di ciglia il rapper e l'influencer si sono ritrovati con i cocci di una dolorosa separazione. Non è chiaro chi abbia lasciato chi, ma è evidente che i tanti anni passati insieme, i fidanzati dal 2016, sposati dal 2018, NDR, e i due figli, leone di sei anni e vittoria di tre, non si possono cancellare. Nelle ultime settimane, oltre ai problemi di immagine ed economici di Chiara Ferragni, sull'ex coppia sono arrivati guai grossi come il presunto coinvolgimento di Fedez sul pestaggio di Cristiano Jovino e quello nell'inchiesta sugli ultras milanesi. Ora, però, si inizia ad intravedere qualche raggio di luce. Forse. Il magazine Key, grazie a un servizio di Valerio Palmieri, rivela che Chiara Ferragni e Fedez avrebbero deciso l'affidamento congiunto dei figli leone e vittoria. Le spese per il mantenimento dovrebbero essere equamente divise. Il condizionale, ovviamente, è d'obbligo con una separazione in corso. Ma si tratta di una novità importante, considerando che fino a poco tempo fa una separazione consensuale sembrava cosa impossibile. Secondo fonti vicine alla coppia Chiara Ferragni avrebbe richiesto all'ex Fedez un assegno di mantenimento di circa 20.000 euro mensili. Ci sono state, inoltre, un paio di segnalazioni. La prima riporta che l'influencer è apparsa serena mentre usciva dallo studio del suo avvocato, accompagnata dalla mamma marina di guardo. In queste ore, inoltre, sui social è comparso un tweet di un utente che racconta un altro aspetto di tutta questa faccenda. Chiara Ferragni e Fedez sono stati visti insieme mentre entravano nello studio di uno psicologo. La segnalazione è arrivata all'esperta di gossip Dejanira Marzano. Ciao Deja, ieri sono stati avvistati i Ferragni che entravano dallo psicologo insieme a Milano.